In una recente intervista ai nostri microfoni il sindaco di Erba Mauro Caprani ha spiegato il progetto di riqualificazione delle aree di smesse, progetto che cambierà completamente il volto del centro cittadino. Ne parliamo con Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambienti L'Aria Alpi. Qual è la vostra posizione in merito? Sicuramente la riqualificazione e la ristrutturazione delle aree di smesse è un atto positivo, lo sponsorizziamo anche noi. A Erba è stato fatto questo tentativo, però c'è un elemento negativo, gli è stato concesso, sulla base di una legge regionale, di aumentare le volumetrie del 10%. Quindi pensare a Erba, edifici più alti rispetto alla Gasfire, al Molino Mottana, che già sono alti, sinceramente non va molto bene. L'altro tema è quello, va bene incentivare la ristrutturazione, ma occorre accompagnare questo con lo stop al consumo di suolo. Oggi Erba sta consentendo l'edificazione e la cementificazione di aree verdi, aree agricole. Per incentivare la ristrutturazione l'unico modo è quello di dire stop al consumo di suolo, non si costruisce più sul verde e allora le imprese e le attività immobiliari saranno costrette a concentrarsi sulla riqualificazione che deve comunque lasciare lo spazio a nuove aree pedonali, una nuova piazza per erba dove la gente si possa ritrovare a piedi, senza le auto, senza il traffico, senza l'inquinamento. Il centro di Erba ha bisogno di questo, di respirare grazie alla riqualificazione delle aree dismesse, ma anche grazie alla pedonabilità delle strade, cosa che oggi non esiste.